Proprio per parlare di scuola la nostra redazione si è recata ed ha intervistato il preside dell'Istituto Tecnico Agrario Duca degli Abruzzi di Padova. Sentiamo l'intervista e poi ritorniamo in studio con il dibattito. C'è stato un problema in una classe dove effettivamente i termosifoni erano freddi. Ho dato comunicazione alla provincia e il giorno stesso sono venuti a sistemare i termosifoni. Per quanto riguarda le infiltrazioni d'acqua relative al tetto della palestra, la palestra è stata sistemata nel 2014. Sono stati spesi 10.700 euro da parte della società sportiva che occupa la palestra di sera. Poi quest'estate in seguito al maltempo il tetto si è rovinato ulteriormente e adesso la provincia ha già appaltato i lavori e la ditta anche che provvederà a riparare un'altra volta il tetto della palestra. È un piccolo angolo dell'intera palestra che non toglie ai ragazzi la possibilità di fare l'attività didattica che viene fatta regolarmente. La palestra è in sicurezza, la palestra è agibile, i miei collaboratori scolastici provvedono continuamente ad asciugare questo piccolo angolo di pavimento bagnato. Quando piove di notte arrivano alle 6 di mattina e sistemano il tutto. Quindi i ragazzi non hanno mai perso un'ora di lezione. Quando sarà sistemato? Sono già stati appaltati i lavori quindi quanto prima e verrà ritinteggiato anche la parte di muro che attualmente ha il catrame che è colato in seguito alle infiltrazioni d'acqua. È arrabbiata per le critiche che sono arrivate a questa scuola? Certamente sì, i lavori vengono effettuati, la provincia ha sistemato, ha ristrutturato un'ala dell'istituto, l'ala dove attualmente si trovano gli uffici. Sta ristrutturando un'altra ala, ha terminato i lavori della stalla, ha terminato i lavori del caseificio. E continuamente quando ci sono delle segnalazioni gli architetti, gli ingegneri della provincia vengono e cercano di riparare. È una scuola che ha ormai quasi 150 anni e ha bisogno di continui lavori di ristrutturazione. Il Duca degli Abruzzi vorreste toltenere una cosa. Come queste scuole noi abbiamo evidenziato una problematica tecnica, probabilmente una manutenzione, dove una manutenzione ordinaria purtroppo per carenza di fondi non c'è, la straordinaria diventa molto costosa. Ma queste sono scuole che garantiscono un servizio importante al territorio. Perché oggi se noi guardiamo sui principali motori di ricerca nel mondo, la parola made in Italy è tra le prime. Perché questo è il nostro made in Italy, in quella scuola c'è un caseificio, in quella scuola si studiano i vini, in quella scuola si studia la nostra cultura popolare che possiamo esportare, farla diventare economia. È la nostra eccellenza. Quindi queste scuole hanno bisogno di strutture, hanno bisogno di mezzi, hanno bisogno di posti locali dove poter lavorare. Oltre ovviamente a dei docenti responsabilizzati, ben pagati e che possano svolgere il loro lavoro. Professor Casen, prego, parlavamo prima di finanziamenti che mancano oggi al nostro territorio e di una scuola che ha bisogno e chiede un intervento, una presenza dello Stato. Ma lo Stato è assente in molte cose, è presente stranamente in talune altre. Cioè dove ci sono i grandi appalti lo Stato è presente. Per il principio più spendo più guadagno. Non si sa chi guadagna ma qualcuno ogni tanto lo prendono all'ultimo momento, proprio quando scadono i termini e vicino alla prescrizione. E quindi non possiamo aspettarci altro. D'altro canto questa riforma delle, diciamo, come andremo a votare noi, sarà un grosso incognito, ha stabilito che ci proporranno il menu e dovremo sottostare il menu che ci presentano. Potremmo anche, io divago un attimo, rifiutarci di andare a votare, ma tanto quelli che vanno a votare comunque la percentuale ci sarà, ci saranno i vincitori comunque e chi sta a casa ha perso sempre. Quindi le riforme vanno fatte seriamente e i cittadini devono tornare ad essere protagonisti, perché se non sono protagonisti i cittadini che sono i fruitori e quelli che pagano le tasse, è inutile che stiamo qua a parlarci a tosso. Allora, ho fatto un ragionamento molto semplice. Compriamo le F-35, non so a cosa servono. sosteniamo l'esercito in Afghanistan e in Albania, piuttosto che in altre zone, con miliardi di spesa, perché noi lì portiamo la democrazia. Non so che democrazia portiamo. Io sono stato in Iran, sono stato in Iraq, sono stato in Afghanistan, sono stato in varie parti e sinceramente una cultura ce l'hanno, solo che noi andiamo a depredare tutte le loro risorse a costo zero, perché il petrolio dall'Iraq ce lo siamo andati a fregare e non l'abbiamo pagato, pur crescendo poi alla pompa di benzina. e non abbiamo i soldi per la scuola, cioè non abbiamo i soldi per la nostra democrazia. Questo non esiste. E dobbiamo metterci nell'ordine di idee, di protestare a voce alta, non questa protesta sommessa è quasi una forma di accettazione. Dobbiamo dire che le spese vanno fatte in un'altra maniera. Abbiamo una mestra e orte, stanno facendo un'autostrada che costerà 20 miliardi di Euro. Previsti, quelli finali non si sa cosa sono, perché il Mose è partito con un miliardo e mezzo, siamo arrivati a 5,5, perché poi nella meccanica solo in Italia e in tutta Europa succede che l'appalto viene dato a 10 e alla fine deve costare 50. Allora bisogna che i professori che sono persone educate e che educano diventino un po' meno educate e vadano veramente a protestare e protestino a voce alta e protestino con consapevolezza, perché non basta soltanto insegnare gratuitamente, che è una bellissima cosa. La dignità passa anche attraverso il censo e questa dignità non possiamo rinunciare, assolutamente, perché è democrazia, è partecipazione. La partecipazione degli insegnanti all'interno della scuola è il perno della società, è la cosa principale, quindi non possiamo rinunciare e io vi chiedo cortesemente di avere più coraggio a protestare. Grazie.